Troppo comodo, scusate, troppo comodo. Un genitore che ha abbandonato il figlio per 34 anni, adesso si rifà vivo così. Che deve essere un mio figlio a comandare la famiglia. A me non mi comprate con i soldi. Abbiamo trovato a tua padre. Avvicinati, già tra... Adesso che ci siamo rincontrati, ti riprenderai. Spusate, coglione. Ma hai detto campione? Papà. Le ultime volontà di Don Ferdinando sono molto chiare. Dolore, ce le possiamo dare più 20 mila euro al mese. E che problema c'è? Non ce ne date più? Ve li diamo noi a voi? No! Tra meno di un mese ci sarà la riunione di tutte le macchie e verrà eletto il capo dei capi. Ce n'è uno nuovo che non l'ho mai vista. Mi sa che è pure un pesce grosso. È troppo duro, non ce la faccio. È normale. Avete pochissimo tempo. Prova con questo. Per trasformare questo fesso in un capo credibile. Bravo. Ah, mi si è cavallato il nervo. Aia. È un po' fredda questa. Non vorrei che mi viena un attacco di sinusite. Ma che minchia dici? Ladies and gentlemen. Poi questi colombiani si sono incazzati. Tengo 50 kilos di cocaina purissima. Non lo so, forse ho giocato troppo a ribasso. Un euro. Un euro? Ma con gli stranieri si fa così. Lo sanno tutti. Don Giuffita che si è pentito e la cosa finisce che feo. Dimmi. Mi scappa la cacca. Non lo so, forse ho giocato il tempo per passione.